Cari amici, guardate questo video con attenzione e diffondetelo. È estremamente importante che il voto del 26 maggio sia un voto libero, dove le vostre scelte non siano fatte per false credenze, ma sui fatti concreti e sulle verità. Nulla di meglio quindi delle vive parole di Matteo Salvini per mettervi in testa che la Lega non ha nessuna intenzione di contestare l'Euro-Unione Europea. È un partito europeista come tutti gli altri. Sarà più anti-euro? Cioè è cambiata la natura della Lega che c'era prima del voto? È diversa adesso il partito? La posizione si è evoluta non da marzo, da qualche anno. Nel programma di governo della Lega e del centrodestra non c'era nessuna ipotesi di uscita dalla moneta unica o dall'Unione Europea. Se lei lo va... ...lo Stato premasti. No, attenzione, questo lo diceva anche Renzi. Cioè sì, no, le posso... No, sì, no. No, no, no. Comunque mi faccia dire, l'ho scritto io il programma di governo, ho tanti limiti. Nel programma di governo della Lega e del centrodestra non c'era nessuna uscita, né dall'Euro, né dall'Europa. Avete sentito? E allora il 26 maggio non dovete avere dubbi. Votate per i veri sovranisti, votate per Casa Pao d'Italia. Votate per i veri sovranisti, votate per i veri sovranisti, votate per i veri sovranisti. Votate per i veri sovranisti, votate per i veri sovranisti. 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 Votate per i veri sovranisti.